Seppur privo di Jonathan Alessandro, l'Aquila in anella, il dodicesimo risultato utile consecutivo e si impone anche a San Vito Chietino contro il pur coriaceo Fostacesia di Massimiliano Memmo con gli highlights di Nico Centurame. Andiamo a vedere cosa è successo sul rettangolo verde ed eccolo qui, angolo di Marchionne, primi secondi di gioco, primo colpo di testa di Cassese, uno spizzo ribattuta, poi corticchia per il fulminio e perentorio vantaggio Aquilano. Replica bianco-rossa che rimarrà la più pericolosa della prima frazione di gara, l'ottavo assist da Corsia Mancino sottoporta in Corna Pau sopra il 7, capovolgimento di fronte San Rizzo riceve a destra, si mette in proprio e lascia partire un diagonale implacabile per Di Vincenzo, 2-0. È chiaramente un 1-2 che dimostra la potenza e che chiarisce subito quali siano i rapporti di forza sul campo. L'Aquila non concede nulla ai bianco-rossi sintomatico, il tentativo dalla distanza di Fioritto che prova a sorprendere l'estremo ospite che controlla e risponde in surplus. Ed anche su calcio da fermo le proprietà balistiche di Bertino non impensieriscono Barbagallo. Finale di tempo tutto di marca rosso-blu, rovesciamento di fronte a termine del quale Carbonelli ingaggia un duello tutto personale con la terza nete che non trova ma che in pratica è un avviso a tempo determinato. Una manciata di secondi dove stavolta Santi Rocco non tradisce. 3-0 e tutti in pausa. In apertura di ripresa c'è il cambio fuori San Rizzo, entra Rey nell'Aquila mentre c'è l'opportunità per Arboleda di mettersi in mostra. Il tentativo del numero 11 al quinto è però out mentre 4 minuti dopo sterza in area ma delude al tiro. È evidente come gli ospiti siano meno aggressivi, riducono al minimo i giri ed entrano in modalità di gestione. Il Fossacesia è vivo e non manca assolutamente di generosità. Ritrova la propria identità tattica soffocata nel primo tempo. Mancano però le conclusioni a rete. Anzi no, ci pensa Carbonelli a assaggiare l'istinto di Barbagallo che gli chiude lo specchio. Giovedì si gioca di nuovo e ha risultato in ghiaccio. I tecnici pensano ad economizzare energie dando fondo alle panche. Appunto da Giovannelli che rileva Di Tommaso arriva lo spunto per il tentativo dei locali che cercano il timbro partita. Ma la storia è ormai scritta fino al termine della partita. Nulla si rileva se non il diagonale in out ancora di Giovannelli in overtai. E per l'Aquila è tempo di godersi il volo solitario in vetta. Allora mister, avvio potente, vi ha un po' compromesso la prestazione, no? Sì, diciamo che abbiamo regalato un tempo all'Aquila e quando tu regali un tempo all'Aquila è naturale che il risultato è questo. Siamo partiti male, abbiamo preso subito gola alla prima azione, poi abbiamo prestato il fianco al loro contropiede, loro in campo aperto sono devastanti e il primo tempo è finito così. Nella ripresa però avete potuto mettere in campo il vostro dettato tattico, no? No, nel secondo tempo abbiamo fatto praticamente quello che dovevamo fare tutta la partita. Beh, loro sono gallati un po' anche perché avevano giocato in settimana la Coppa e nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi. Forse siamo stati sfortunati in alcune occasioni, potevamo fare un paio di gol e magari la potevi riaprire, però giustamente loro hanno gestito poi la partita. Quando vai il primo tempo sul 3-0 è naturale che contro l'Aquila la partita è chiusa. Non era questa comunque la partita in cui il Foscesia doveva dimostrare qualcosa, no? No, sicuramente no, certo che dispiace perché comunque tutte le partite sono punti importanti. Certo è che non avevamo la presunzione di fare una vittoria contro l'Aquila, ci speravamo all'inizio. Però lo dispiace di più che gli abbiamo regalato un tempo e quindi gli abbiamo regalato la partita. Però è naturale che abbiamo giocato contro una grande squadra e noi dobbiamo ripartire da questo secondo tempo. Mister, un avvio potente, 10 minuti di fuoco, poi un primo tempo straordinario, insomma avete messo la partita in ghiaccio e avete fatto la storia in 45 minuti, poi la gestione della ripresa. Sì, sì, ma è quello che volevamo perché sapevamo che mercoledì avevamo speso tanto quindi ci poteva essere qualche problema a livello fisico di mantenuta perché mercoledì abbiamo speso tanto su un campo che ci ha fatto spendere il doppio. Siamo partiti forte, l'abbiamo preparato in questa maniera, sapevamo che più portavamo la partita in avanti su questo campo piccolo ci potevano nascere dei problemi, siamo stati bravi il primo tempo, credo che abbiamo fatto tecnicamente una grandissima partita. L'abbiamo chiusa, poi abbiamo amministrato anche perché secondo me eravamo anche un pochettino più stanchi di loro, quindi però sono contento di questa innesima grande partita e ci porta ancora avanti perché poi il camminato è ancora lunghissimo, per noi ogni partita è determinante e quindi dobbiamo continuare in questa maniera. Giovedì si gioca di nuovo? Giovedì si gioca di nuovo, dobbiamo recuperare le forze, speriamo che Simone Ray non si è fatto niente di grave, credo che recupereremo Jonathan Alessandro che ci può dare una grossa mano e quindi ci prepareremo innanzitutto a recuperare molta energia e poi a cercare di fare un'altra grande gara.